siamo online benvenuti a questo nuovo appuntamento del centro di cultura ebraica e della libreria kiriat sefer siamo veramente molto felici di avere il nostro ospite il geula kannaruto nemni che ci farà oggi una lezione su purim il messaggio segreto di purim purim è una delle feste più gioiose del calendario ebraico e ci ricorda un fatto accaduto circa 2500 anni fa in persia durante il regno del re assuero leggiamo nella megillat ester che est che ester appunto la giovane donna ebrea moglie di re assuero salva il suo popolo dallo sterminio voluto dal consigliere di re assuero il perfido amman nella megillat noi troviamo alcuni dei temi ricorrenti dell'intera storia ebraica un popolo che nonostante i tentativi dei suoi nemici di sterminarlo è riuscito ad attraversare i secoli e a mantenere la propria identità e passo volentieri la parola a geula che ci indicherà però quelli che sono i diciamo le interpretazioni di purim che non leggiamo tra le righe della megillat ester prego gheula grazie a tutti grazie per avermi accolto qui nella vostra pagina e sto cercando in realtà di condividere con la mia pagina vedo tutto un pochino in ritardo scusatemi aspettate un attimo ok non riesco a condividere con la mia pagina e scusatemi un attimo me l'ho promesso tutte le persone che sono sulla mia pagina se mi date una mano a risolvere questa cosa geula dovresti cliccare condividi sotto la nostra diretta e da lì passare alla tua pagina ok lo sto provando a fare ma non non faccio share mi fa copi link vi chiedo veramente scusa ma l'ho promesso così tante persone che mi sento male prova a fare copi link e lo copi come un post sulla tua pagina ok le persone mi hanno dato la nostra locandina possono andare direttamente sul centro di cultura ma le persone sono sul mio profilo in genere sai come sono le persone sono molto abitudinarie aspettate un attimo vediamo se riesco ok post vediamo se va ok in teoria adesso dovrebbe essere va bene grazie mille ok dovrebbe dobbiamo esserci adesso va bene allora grazie di nuovo grazie a tutti grazie per questo invito grazie per ricordarvi di me anche quando sono lontana anche quando non ci si vede fisicamente vuol dire che siamo ognuno nel cuore dell'altro e questa è la cosa importante e per me sapete che roma ha sempre un posto speciale nel mio cuore allora cosa ho deciso di raccontarvi oggi ho deciso di andare un po dietro le quinte della storia di purim ho deciso di cercare di raccontarvi che cosa ci racconta questo questa megila questa storia di esper di mordecai e che cosa racconta a noi nel giorno al giorno d'oggi prima di tutto una delle cose che sorge spontanea come domanda è che troverete la parola yehudim ebrei nella megila quando si parla degli ebrei la prima volta che vengono definiti in questo modo nella storia proprio del mondo è all'interno della megila quindi gli ebrei come li conosciamo oggi questi yehudim questi i giudei che a volte sono anche perfidi perché non ci non piacciamo sempre al mondo nascono nel momento di purim quindi in realtà quando è che gli ebrei sono diventati veramente una nazione non è stato nel momento dell'uscita dall'egitto non è avvenuto neanche davanti al monte sinai quando avevamo una rivelazione altissima di dio neanche quando siamo entrati nella terra di israele e nemmeno quando è stato costruito il santuario no gli ebrei si chiamano yehudim nella prima volta della storia durante la festa di purim e come incontriamo questa denominazione degli ebrei la incontriamo con questa espressione dove c'è scritto ish yehudi hayah beshushan abirah c'era questo mordecai che era yehudi era un adesso lo chiamiamo ebreo ma era un yehudi allora cerchiamo di capire perché gli ebrei nascono come popolo come nazione in realtà durante la festa di purim diciamo che la festa di purim è la nostra dichiarazione veramente siamo nati è come se fosse il nostro compleanno e questo in pochi lo sanno perché tutti pensano che sia venuto davanti al monte sinai invece c'è scritto in un in un rashi molto famoso è scritto che chi move chi blu gli ebrei hanno ricevuto su di loro la torà che prima era stata dato loro e dopo cercavano di capire che come in un altro modo davanti al monte sinai invece durante purim l'hanno ricevuta in maniera più efficace ora cerchiamo di inquadrare un attimino storicamente la storia di purim quando è che siamo siamo in un momento in cui il popolo ebraico è in esilio siamo nel quarto secolo prima dell'era volgare il primo santuario è stato distrutto 50 anni prima all'incirca il secondo non è ancora stato ricostruito gli ebrei sono in esilio esilio babilonese che cos'è il primo esilio degli ebrei è la prima volta da quando siamo usciti dall'egitto che siamo fuori dalla nostra terra è la prima volta che gli ebrei assaggiano la convivenza e l'integrazione con gli altri popoli e cosa possiamo dire non stanno male non stanno per niente male anzi vengono invitati al banchetto di hashverosh ci partecipano sono fanno parte degli alti ranghi della società e cosa si stanno convincendo sempre di più che in realtà per vivere bene e forse anche per sopravvivere non sanno quanto ci sia bisogno di dio ma sicuramente c'è bisogno di qualcosa della diplomazia dei buoni rapporti con il re della giusta integrazione del far vedere che non siamo molto diversi insomma cercare di intrufolarsi tra la società dove si vive e lì farsi notare il meno possibile e per vie diplomatiche e diciamo naturali cercare di far parte di quella società quindi cercano di mettere dentro la propria vita sempre più la via della norma e sempre un po meno dio lo cantonano e piano piano si staccano da lui e sono ben accetti da tutti gli ebrei si sentono al sicuro non hanno nessun posto dove non vengono accettati sono fanno vivono in tutti i centoventisette regni di dire che in quel momento storico voleva dire tutto il mondo quindi era l'imperatore mondiale però ci vivono bene e però la tora dice che quando gli ebrei si sentono tranquilli e sereni ogni tanto è scritto vaivat vaishmaneshurun vaivat quando si è scritto che quando il popolo di israele ingrassa e è tranquillo in questa sua serenità ivat calcia dio e quindi un po calciano via dio dalla propria vita e cosa fanno si immettono all'interno delle regole della natura dicono dio stai un attimo da parte non è veramente da te che dipende tutto il nostro destino ma dipende dal fatto che noi siamo ben voluti al re assuero ai suoi consiglieri che partecipiamo ai suoi banchetti quindi ci facciamo vedere parte integrante della sua società e cosa succede si dimenticano della regola eterna per la quale chi si stacca da dio porta a dio ad allontanarsi da lui e non è questa una punizione non è a tutti stacchi da dio bene adesso ti punisco allora anche io mi stacco da te no è semplicemente una regola naturale è una è una causa ed un effetto semplicemente quando noi ci stacchiamo da dio portiamo dio a staccarsi da noi e quindi quando questi ebrei partecipano al banchetto di del re a hashverosh di assuero e lo trovano conveniente e forse pure anche divertente perché insomma era l'imperatore del mondo che fa banchetti per giorni e giorni non doveva essere un semplice fasco festivo ma c'era qualcosa di molto più grande e iniziano a ragionare come gli altri e quando gli ebrei iniziano a diventare come gli altri si assoggettano al destino degli altri e mentre il destino di tutto il mondo è assoggettato alle regole della natura il destino del popolo ebraico non è assoggettato alle regole della natura ma quando gli ebrei decidono di seguire la natura e di non stare sotto dio che li porta al di fuori della sfera naturale allora piano piano dice va bene allora seguite la natura ma se noi pensiamo alla storia del popolo ebraico la storia del popolo ebraico è una storia di sopravvivenza soprannaturale iniziamo da abramo isacco giacobbe tutto quello che succede al popolo ebraico la sopravvivenza in egitto la sopravvivenza tra i popoli è tutto qualcosa che va di sopra della natura le civiltà vanno e vengono e una si sussegue dietro l'altra e l'unica nazione che fa da comune denominatore a tutta la storia qual è la nazione ebraica e quindi c'è qualcosa di soprannaturale in tutto questo ed è proprio in questo momento di allontanamento da dio in questa storia di purim che racconta come dio come gli ebrei si sono allontanati da dio perché inizia con la descrizione di questo banchetto la meghillà di ester che è una storia di allontanamento perché è il banchetto in cui gli ebrei hanno dichiarato dio vogliamo staccarci da te noi preferiamo andare a farci benvolere da re a suero e da tutto i suoi da tutta la sua combriccola di consul di consiglieri vari tra cui ha man è proprio lì che prendono il nome di Yehudim dalla radice di lehodot lehodot vuol dire ammettere perché proprio in quella storia gli ebrei hanno ammesso che avevano bisogno di dio hanno iniziato a reinvitare dio nella loro vita perché si sentivano al sicuro secondo la logica non c'era niente che potesse farli male eppure di punti in bianco è arrivato a man che non era altro che hitler hitler di quei tempi perché hitler e a mano aveva deciso di sterminare tutti gli ebrei bambini donne uomini giovani vecchi in dei cento ventisette paesi che facevano parte del regno di assuero di akash verosh che cos'erano tutto il mondo ha man aveva deciso di sterminare gli ebrei e di farli sparire dalla faccia della terra in che momento nel momento in cui gli ebrei si sentivano super sicuri di essere una botte di ferro perché erano molto ben voluti al re e avevano scalato tutti i ranghi della società persiana ecco quando gli ebrei hanno visto che qualcuno li poteva minacciare nonostante il loro status così tranquillo e sereno in cui si trovavano hanno capito che in realtà il loro destino non dipendeva da come li vedeva di buon viso o cattivo viso il re e hanno capito che soltanto accettando il gioco divino potevano cambiare il loro destino ecco qui loro gli ebrei non hanno aspettato che dio gli desse un segno visibile davanti al monte sinai gli ebrei hanno visto una rivelazione altissima davanti alla spaccatura del mar rosso gli ebrei hanno visto una spaccatura un miracolo enorme cioè tutti quei momenti lì della storia che c'erano stati prima anche quando c'era il santuario di gerusalemme erano momenti storici in cui dio si rivelava apertamente c'erano miracoli uno dietro l'altro il fuoco continuava a bruciare e c'era sempre la nuvola di fumo 365 giorni all'anno nessun vento la spostava gli ebrei vedevano i miracoli ogni giorno della loro vita quindi era molto difficile negare l'esistenza di dio e l'intervento di dio nella storia ma dio ha aspettato il momento in cui si è nascosto e ha voluto che fossero gli ebrei a cercarlo ed è lì quando gli ebrei senza nessuna rivelazione divina senza nessun miracolo evidente hanno cercato dio e hanno detto dio ti prego rientra nella nostra vita è lì che dio ha ricominciato a intervenire nelle loro giornate e nella loro vita senza farsi vedere apertamente senza miracoli come la spaccatura del mar rosso ma in puzzle incredibile di eventi incastrando le cose in un modo che se uno legge la miglietta e la legge guardando come si sono sosseguiti gli eventi pensa che dietro ci sia steven spielberg perché è un film pazzesco perché ci sono colpi di scena uno dietro l'altro ed è una una storia in cui la salvezza nasce già nel momento in cui nasce la tragedia perché la tragedia nasce nel momento del banchetto e nel momento del banchetto il rea hashverosha stuero è completamente ubriaco e lì decide di far fuori sua moglie e cercare una nuova moglie che è ester e quindi la salvezza dio la prepara perché sa già che i suoi figli torneranno a lui però si nasconde e aspetta che siano lui a cercarla e quindi che cosa che ci cos'è che ci insegna pur in oggi ci insegna che noi ebrei dobbiamo fare tutto secondo la natura perché così dio vuole dio vuole che noi lavoriamo di che ci svegliamo al mattino facciamo la fatica del diavolo a svegliarci con la sveglia delle sei e mezza vuole che seguiamo le regole della natura un ebreo non può stare sdraiato a letto seduto su una sedia dire dio ok tanto lo so che tu arriva da te mandami un bel dieci milioni di euro in banca no non funziona così dio vuole che comunque l'ebreo si comporti come si comportano tutti gli altri cioè si regoli la loro propria vita e lavori come lavorano tutti gli altri però è forse per questo che siamo un po schizzatini noi popolo ebraico vuole che nello stesso tempo noi lavoriamo e però ci ricordiamo che nulla dipende dal nostro sforzo cioè che noi lavoriamo 24 ore su 24 7 giorni su sette o che noi lavoriamo cinque giorni e mezzo sei giorni e e poi dopo la giornata di shabbat la la dedichiamo e il venerdì come preparazione lo regaliamo lo lo dedichiamo a dio in realtà non cambia sui risultati del nostro lavoro dio vuole che lavoriamo che però nello stesso tempo sappiamo che tutto dipende da lui ed è esattamente questa è la sta lezione della storia di purim purim cosa ci ha insegnato ci ha insegnato che gli ebrei in quella in quel momento storico stavano dentro alle regole della natura ma così tanto che ha deciso ci assoggettiamo alle regole della natura e quindi ha detto se tiriamo fuori dio ok allora dovrai per forza lavorare per sette giorni a settimana sette giorni su sette 24 ore su 24 più portarti a casa qualcosa se invece inviti dio nella tua vita dio è dentro a quello che ti appare naturale ma realtà ti fa essere te come ebreo al di sopra delle regole della natura e quindi noi ci ricordiamo che il nostro destino non dipende da nient'altro che se non dall' attaccamento che abbiamo verso dio quindi per questo noi diventiamo un popolo ebraico non davanti alla manifestazione esplicita di dio ma diventiamo i ebrei quando siamo noi a cercare dio e a riportarlo nella nostra vita c'è scritto che chi pur vedete c'è un'assonanza chi pur dicono nel talmud è un'essenza di puri in questo che in ebraico vuol dire una similitudine quindi sarebbe come se chi pur fosse una brutta copia di puri immaginate cosa vuol dire tutto questo è come se chi pur un po si fosse ispirato a purim e spiegano i maestri che cosa succede a chi pur a chi pur si rivela il livello più alto dell'anima dell'ebreo si rivela quel livello che è al di sopra di ogni logica è quel livello che si chiama dell'anima dell'ebreo che è sempre lì intatto puro a prescindere da quello che noi facciamo ma questo livello si rivela attraverso venticinque ore ragazzi di preghiera di giuno non è facile farlo rivelare questo in questo livello di chi pur se vi dico chi pur viene già un mal di mal di testa soltanto al pensiero di chi pur ecco a purim in realtà si rivela così dicono i maestri del talmud lo stesso livello ma attraverso cosa non attraverso il digiuno attraverso il cibo non attraverso le lacrime il pentimento attraverso la gioia attraverso la festa attraverso le cose materiali per questo purim è considerato ancora più alto di chi pur c'è scritto che tutte le le tutte le feste quando verrà maschia quando verrà il messia spariranno non verranno più fatte ma rimarrà una che è purim perché perché purim è quella che ci fa raggiungere il livello spirituale altissimo però utilizzando la materia noi siamo felici perché perché c'è scritto che dobbiamo bere tanto vino e diventiamo allegri perché ci sediamo a mangiare tutti insieme e perché facciamo i regali ai poveri e quindi chi pur noi riusciamo a raggiungere questo livello altissimo dicono i maestri del talmud perché ci astraiamo dal mondo a purim noi riusciamo a raggiungere questo livello altissimo rimanendo in questo mondo utilizzando tutta la materialità per rivelare dio e per questo che il nostro è ancora più alto perché tutto lo scopo dell'essere umano non è rivelare dio quando siamo sul monte Everest ma è rivelare dio nella nostra quotidianità e questo è proprio quello che simboleggia purim c'è scritto che purim bisogna bere adeloia da adeloia da vuol dire fino a quando una persona non distingue più tra 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 haman tra quindi il male e mordecai che rappresenta il bene assoluto perché perché a purim si rivela un livello così alto di dio è il livello a cui in cui noi siamo attaccati a dio a prescindere da come siamo a prescindere da come ci comportiamo a prescindere dal male haman o dal bene adeloia da noi riusciamo a raggiungere un livello spirituale altissimo in cui siamo attaccati a dio a prescindere da cosa facciamo ogni giorno secondo la cabala haman era una reincarnazione di esau di esav e mordecai era invece una reincarnazione di jacob c'è un incontro nella torà nella bibbia in cui i due fratelli si incontrano e jacob si inchina ad esav ad esau si inchina più volte haman è un astrologo e sa che questo è un momento propizio e sa che si riuscirà a fare inchinare mordecai di nuovo a lui il popolo ebraico sparirà haman vede la storia ebraica in tutt'uno e sa come sappiamo noi che la storia ebraica è salite e discese salite e discese salite e discese un po' una specie di montagne russe ma le discese nel popolo ebraico sono sempre venute per preparare delle salite ancora più alte pensate la schiavitù in egitto è stato 240 anni di veramente una schiavitù brutta cattiva terribile che hanno preparato che cosa però la rivelazione di dio sul monte sinai hanno preparato che dio portasse la torà in questo mondo la distruzione del santuario da parte dei romani le settanta dell'era volgare cosa ha portato pochi anni dopo abbiamo lo Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai abbiamo Rabbi Akiva che piange sulle sulle ceneri sulla distruzione sulle sulla parte distrutta del santuario abbiamo abbiamo l'inquisizione e abbiamo nello stesso momento Rabbi Yosef Caro che compone Shukhanaruch Rabbi Yitzhak Luria Rabbi Chaim Vital i maestri della Kabbalah e così via ma perché questo perché dio quando prepara qualcosa di molto grande prima di una grande rivelazione si mette da parte come un seme che deve sparire nella terra prima di dare vita a un albero e Haman vede nelle stelle perché è un astrologo vede che quello di Purim il momento in cui avviene la testa di Purim e il momento in cui avviene la storia di Purim è uno di quei momenti storici in cui dio si nasconde in cui dio sembra allontanarsi e Haman dice ragazzi questo è il momento giusto Haman è un discendente di Amalek di quel popolo che storicamente aveva come disegno più grande quello di distruggere e cancellare il popolo ebraico dalla faccia della terra e quindi Amalek dice ragazzi abbiamo di nuovo questo momento storico in cui dio si ritira e quindi quando dio si ritira gli ebrei vaccinano un po' nella propria fede perché dio si nasconde ben bene e questo vaccinare della loro fede è un momento giusto o un punto debole in cui possiamo sferzare la soluzione finale in cui potrò approfittare per per sterminarli e per questo quando Amalek va da Achashverosh che cosa gli dice gli dice dice c'è un popolo sparso tra i popoli letteralmente vuol dire c'è ma viene dalla riccia di Yashan che vuol dire dormire e quindi quando Amalek va ad Achashverosh e gli propone lo stormino degli ebrei Achashverosh il re non rimane molto convinto dice non mi sembra una buona idea sai Amalek non è che siamo stupidi tutti un po' conosciamo la storia del popolo ebraico cavoli però non ti rendi conto tutti quelli che hanno provato a mettersi contro questo popolo dio li fa fuori e se io ho voglia di vivere di godermi la vita certo l'ultimo dei miei dei miei disvedi è quello di sparire dalla faccia della terra in questo momento sai sono re su 127 regni insomma sono l'imperatore del mondo scusami puoi lasciarmi un po' in pace e Amalek comincia a venire no non hai capito finché ci sono questi ebrei tu non sarai veramente il tuo regno sarà sempre un po' in pericolo questi ebrei sono sempre qualcosa che ti minaccia sempre perché pensano troppo spargono troppo la fede in questo dio unico tu invece vuoi fare questo culto del re quindi non ti conviene tenerli e ti dico una cosa questo è un momento storico propizio per farlo perché yes no dio sta dormendo nella cabalà questi momenti storici in cui dio si nasconde si chiamano dormita proprio con questa parola dormita si vede che proprio i latini hanno imparato dagli ebrei questa espressione dormita dio dorme sembra che sia quasi addormentato e yes no si scrive yashan con le lettere che si usano per esprimere il verbo dormire e poi una vav alla fine e se sapete com'è fatta questa lettera vav è una riga dritta e cos'è questa vav è la terza lettera del nome di dio la terza lettera di questo nome di dio che è composto da quattro lettere il tetragramma che rappresenta come dio si rivela in questo mondo ecco quando haman va da hashverosh e gli dice most terminiamolo questo questo popolo dice perché sta dormendo la vav che cos'è la vav del tetragramma la vav del tetragramma è la lettera che rappresenta come scende giù in terra l'energia di dio l'energia divina e dice haman a hashverosh non ti preoccupare in questo momento yashan vav questa vav questo flusso di energia divina che dio mette sempre sul proprio popolo sta dormendo è andata a farla nanna e quindi approfittiamone però haman si dimentica di una cosa che dormire non è morire e come si dice finché c'è vita c'è speranza speranza in ebraico si dice tikva e in mezzo alla parola tikva ci sono due lettere si scrive ci sono la kaf e la vav e cos'è la kaf e la vav una riga kav e di nuovo una riga questa kav questa vav questa vav dentro alla speranza c'è questa riga c'è questa possibilità di rivedere questo flusso di energia che scende dall'alto al basso e che collega il cielo con la terra e chi è questa kav che è questo tikva che è questa speranza che c'è nel popolo ebraico mordecai e haman fa di tutto per farlo fuori perché chi è mordecai è forse uno degli ultimi moicani che dice ragazzi siamo messi molto male se non riportiamo dio nella nostra vita il nostro segreto di sopravvivenza è uno solo dio e se noi lo tiriamo fuori dalla nostra vita non sopravvivremo più e quindi che cosa succede la va mordecai dice a tutto il popolo ebraico dobbiamo riportare dio all'interno della nostra vita e haman cosa cerca di fare cerca di far fuori mordecai ma non cerca di farlo fuori soltanto materialmente fisicamente no haman cerca di seppellire in 50 gradi in 50 livelli di impurità mordecai cosa dice facciamo un albero alto quanto 50 ma 50 cosa sono 50 sono i livelli di impurità dai quali nessuno è proprio potuto tornare indietro gli ebrei quando erano in egitto erano rimasti sepolti in 49 livelli di impurità ancora uno e non si sarebbero più salvati ecco haman dice ragazzi devo portare haman e a mordecai in tentazione devo fargli fare di tutto devo portarlo all'interno del cinquantesimo livello di impurità perché da lì se lui sparirà spiritualmente tutto il popolo ebraico è nelle mie mani e quindi cosa succede però quando haman va nel cortile di di acas veros sta incamminandosi dopo che si è consigliato con la moglie che gli ha detto haman sei un genio ma facciamo questo albero alto 50 ama e impicchiamoci su mordecai e haman si incamminandosi tutto bello felice sereno perché lui sa di essere il consigliere con la c maiuscola del re e cosa succede un minuto dopo cosa c'è scritto c'è scritto haman sta camminando nel cortile del re e poi inizia un nuovo capitolo e cosa c'è scritto in quella notte il sonno del re era molto irrequieto vuol dire ballava si svegliava si addormentava si svegliava si addormentava i maestri della cabala dicono quando nella megila nella megila di ester c'è scritto hamele senza scritto hamele va solo hamele vuol dire dio il re del mondo e quindi proprio quando haman si avvicina dice ragazzi ho trovato il modo di far fuori mordecai basta che adesso il re mi dia il suo permesso quella notte il sonno del re che è dio inizia ad essere un sonno un pochino travagliato insomma inizia a soffrire un po di insonnia questo re che è a scena e quindi all'inizio di quel capitolo proprio quando amman sta dicendo ho trovato la soluzione finale dio inizia a risvegliarsi dalla sua dormita e quindi perché perché gli ebrei si erano riuniti e hanno ritrovato tra loro l'unità e hanno detto digiuniamo e riportiamo dio nella nostra vita e quando una persona dice voglio riportare dio nella nostra nella mia vita dio ci ritorna e per questo che adesso dio inizia a svegliarsi si era ritirato indietro si era messo a dormire tra virgolette adesso si risveglia in quella notte il sonno di dio è un po non tranquillo e si risveglia e c'è scritto che in questa frase qui tutti noi andremo quest'anno se dio vuole domani sera a sentire anche venerdì mattina bisogna leggerlo ad alta voce perché dicono i maestri perché con questa frase noi quando lo diciamo alta voce risvegliamo tutti quelli che sono addormentati spiritualmente perché in quel momento noi stiamo dicendo che il re si è svegliato e risvegliamo anche dio quando uno ha bisogno di ritrovare la fede dentro di sé quando uno ha bisogno di richiamare dio dentro di sé che urli questa frase ad alta voce perché questa frase è la fase che riporta dio nelle nostre vite e ampurin scende giù una luce così forte perché questa luce forte in realtà non proviene dal risveglio soltanto di dio non è la luce che viene fuori quando dio si manifesta sul monte sinai che dio decide di sua spontanea volontà di manifestarsi non è la spaccatura del mar rosso in cui dice faccio un miracolo no è la luce di dio che si manifesta perché perché l'uomo lo chiama perché l'uomo lo cerca e questa luce è molto più alta si dice che quando noi risvegliamo dio riusciamo a portare giù una luce così alta e permanente nel mondo molto di più di quando dio ci concede di sua spontanea volontà e questa luce rimane di purim è una luce così forte che se noi vogliamo e viviamo un purim veramente come si deve pervade tutta la nostra vita giorno dopo giorno e vedremo questi miracoli magari nella natura come a purim ma saranno miracoli perché perché avremo risvegliato dio dentro di noi ma come facciamo a fare in modo che questa luce di purim che è una luce altissima rimanga in terra e non svanisca dopo le venticinque ore di purim con le quattro mitzvot con quello che hanno detto i maestri di fare e cosa hanno detto di fare hanno detto di leggere la meghilà micra meghilà hanno detto di fare matanot la evionim di fare la tzedakah quindi i regali ai poveri hanno detto di fare una seuda un pasto festivo e hanno detto di fare mischloach manot di mandare un pacchettino pieno di cibo almeno due cibi uno all'altro ma i maestri della cabala spiegano perché sono queste quattro mitzvot che portano giù questa luce e la fissano nella nostra vita e la incollano la nostra vita e fanno in modo che questa luce speciale che scende a purim una volta all'anno non svanisca per gli altri 364 giorni la lettura della meghilà si chiama micra meghilà micra significa leggere ma significa anche chiamare perché noi chiamiamo questa luce verso di noi attraverso l'altura della meghilà voi pensate che quando noi leggiamo la torà durante lo shabbat scende giù una luce molto forte ma diretta e per questo noi teniamo chiuso tutto il rotolo e scopriamo soltanto la colonna che stiamo leggendo in quel momento quando noi leggiamo la meghilà a purim il hasan chi legge il lettore srotola tutta la meghilà e poi la riapre ma la lascia aperta non non lascia aperto soltanto il pezzettino che sta leggendo perché la luce di purim è una luce diversa è una luce che ci circonda è una luce che è capace di entrare in ogni ambito della nostra vita è una luce altissima e che cos'è meghilà ester meghilà legallot vuol dire rivelare e ester cosa significa nascosto micra meghilà la meghilà di ester significa rivelare il nascosto riusciamo a rivelare la presenza di dio che ci sembra nascosta come nella meghilà di ester in cui dio non è mai menzionato neanche una volta e lo portiamo evidentemente nella nostra vita e lo portiamo anche nei momenti più bui in cui sembra veramente essere nascosto e lontano e questo quindi la prima mitzvah con la prima mitzvah riusciamo a portare giù la luce di dio nella nostra vita in ogni momento di luce o di buio che sia la seconda mitzvah è la mitzvah invece di matanot laevionim regali ai poveri ma che cosa sono i regali ai poveri i regali ai poveri matanà è un regalo perché non si chiama tzedakah tzedakah sapete che viene dalla parola dalla radice tzedek giustizia quindi quando noi facciamo tzedakah noi in realtà stiamo riequilibrando in maniera corretta quindi non stiamo facendo nessun regalo al povero siamo soltanto un tramite per riequilibrare l'equilibrio economico della società però quello con i regali che noi facciamo ai poveri di purim non si chiama tzedakah si chiama matanà cos'è un regalo un regalo è una cosa che tu fai a una persona che ami anche se magari non è perfetto se magari non è neanche se comportato molto bene con te è un regalo è al di sopra della razionalità è un regalo è una cosa che fai perché tu vuoi bene a questa persona ecco quando noi facciamo questi regali ai poveri non è che ci facciamo tanti calcoli cos'è questo povero ha bisogno non ha bisogno diamo matanà un regalo così risvegliamo in dio il desiderio di dare noi non secondo quello che noi veramente ci meritiamo ma come matanà di darci i regali senza motivi di darci una vita bella in regalo e poi abbiamo il terzo punto la seuda che è il pasto festivo seuda viene dalla parola saad che significa supportare si chiama esrassi udit quando si vuol dire quando si cerca una colf per un vecchietto si chiama esrassi udit l'isod vuol dire anche supportare quindi fornire proprio un supporto ecco quando noi mangiamo tutti insieme quando facciamo vedere a shem a dio che ci riuniamo e che questi piaceri materiali non li facciamo semplicemente perché ci piace magnà ma perché lo facciamo per festeggiare hashem per riportarlo nelle nostre vite come è successo nella festa di purim creiamo un saad creiamo un supporto per fare in modo che questa luce si attacchi alla nostra vita per questo noi ogni momento importante ebraico pensate allo shabbat pensate alle feste pensate a un matrimonio pensate a un brit milà noi mangiamo perché c'è una luce così particolare spirituale così alta che se noi non facciamo qualcosa di materiale questa luce sfugge ma se facciamo qualcosa di materiale questa luce si attacca e tra parentesi si attacca ancora di più quando si beve vino infatti se voi pensate tutti i momenti di festa il vino ha questo potere il vino è una cosa materiale ma è molto spirituale per questo il vino deve essere sempre super cascer perché altrimenti si attaccano le forze del male ma per portare a far attaccare le forze del bene questo vino lo usiamo quando facciamo festa per un momento sacro per un momento spirituale e mi schloch ma not e quando le mandiamo il pacchettino con due almeno due tipi di cibo a un amico una donna un'altra donna e un uomo un altro uomo attraverso un messaggero che cos'è haman cosa dice da hashverosh dice c'è un popolo ragazzi non solo sparso ma anche diviso questo popolo qui non si vogliono neanche tanto bene sai hashverosh quando gli ebrei non si vogliono bene non va molto bene nella loro storia quindi è il momento giusto per colpirli erano divisi tra loro gli ebrei e per questo noi facciamo per ricordare a dio dio no 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 siamo mica come gli ebrei in quel tempo noi siamo uniti ci vogliamo bene e pensate a come unisce il cibo il cibo una delle cose che unisce di più perché diamo senza pensare ci attorniamo di amici e condividiamo quello che abbiamo e quindi stiamo a dare agli altri senza fare troppo i calcoli pur di essere con gli altri finisco con quest'ultima chicca del talmud che dice così dice c'è un pezzo del talmud che dice haman min ha torah minain ma haman dove si trova nella torah allora i maestri rispondono ma che dite haman mica è nel momento di quando è stata data la torah è molto dopo ragazzi siamo migliaia di anni dopo cosa vuol dire questa domanda allora che si fanno i maestri haman min ha torah minain e cosa rispondono i maestri haman e haman si scrive con le stesse identiche lettere ma haman min ha et che cos'è è quando dio va da adamo e gli dice haman ha et ma hai mangiato veramente da quell'unico albero che ti ho detto di non mangiare ma sei veramente stato capace cioè ti ho fatto ho dato un paradiso terresto ho dato il gan Eden hamin ha et da quell'unico albero che ti ho detto di non mangiare sei riuscito ad andare a mangiare che cos'è haman cosa rappresenta haman haman rappresenta l'incapacità di accontentarsi dell'essere umano haman aveva tutti i 527 regni tutto un impero che gli si inchinava una sola persona non gli si inchinava mordecai adamo e deva avevano un intero paradiso terrestre a loro disposizione un solo albero non potevano prendere e hanno mangiato pure da quello haman ha detto tutto questo non mi vale cose e non mi vale un picosecco di niente se mordecai non vi si inchina che cos'è purim purim è tutta una festa in cui noi preghiamo con gli altri mangiamo con gli altri diamo tzedakah agli altri condividiamo i pasti con gli altri mandiamo agli altri diciamo dio quello che abbiamo non solo ci è sufficiente ma la condividiamo volentieri con gli altri non abbiamo bisogno di niente che appartenga agli altri siamo al contrario di adamo e deva siamo al contrario di haman non ci interessa quell'unica cosa che non abbiamo no 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 non hai capito anche quello che abbiamo ci basta e non solo te lo facciamo vedere lo diamo anche agli altri e allora dobbiamo ricordarci che purim è una festa di gioia così grande che con questo gioia se c'è scritto sim haporezzat geder riusciamo a raggiungere dei livelli su spiritualmente così alti che neanche a yom kippur raggiungiamo attraverso tutte queste mitzvot e ricordandoci che dio quando lo vogliamo ritorna volentieri nella nostra vita grazie mille Eula grazie veramente tantissimo delle tue parole del tuo modo affascinante di raccontarle e ti ringraziamo molto per aver come dire rivelato questi significati nascosti e sicuramente domani leggeremo tutti con molta più consapevolezza la Meghila che io grazie a voi ci ricorderemo di tutti questi legami col Talmud con la Kabbalah il significato delle lettere brai che c'è veramente ci hai dato tantissimi spunti che sicuramente li riguarderemo tutti leggendo la Meghila grazie ancora domande non ci sono soltanto complimenti e saluti che rigiriamo a te e buon purim purim sameach a tutti purim sameach sameach pieno di gioia ricordatevi che con la gioia si ottiene di più ancora che col digiuno dobbiamo essere super felici un po' anche ubriachi bene quindi tanta gioia tanta luce tanta gioia ok grazie buon purim a tutti buon purim grazie buon purim